Allora, subito una domanda, una cosa che non ho capito del film. Sembra che tu non sia la Violetta personaggio della serie, ma poi nel film nessuno ti chiama mai Martina. Volevo capire chi è il personaggio di questo film. Volevo capire chi è il personaggio di questa film, perché sembra che tu non sei Violetta, ma nessuno ti chiama Martina. Quindi, chi è il personaggio, il protagonista di questa film? In realtà, credo che è una ficzione che si deve conoscere in mio nome, ma prima è per finalizzare con Violetta. Prima di 5 anni di questo progetto di tantissime cose vivi, finalizziamo con una film con Violetta. e le stiamo dando come un nuovo comienzo a quello che sarebbe la mia carriera. Basicamente è questo. Beh, diciamo che innanzitutto è una finzione, però la prima funzione di questa finzione è di finire Violetta dopo tanto progetto, dopo tanti anni di lavoro e anche dare inizio a qualcosa di nuovo. Ok, quindi è Violetta. Sì, che è Violetta la protagonista. Certo, bueno, Violetta è Violetta in quasi tutta la film, meno al final, che è quando si chiama di la verità. Non so se, credo che la vio quando si chiama di la verità e in il show, io già mi presento con mi nome, come Tini. Io credo che non hai che separare il personaggio in due, ose, è la mia, perché voi sei una. Ose, è la mia persona che cazò la mia carriera. Sì, sì, è Violetta tutta la film, solo che al final si termina sendo come Tini. Sì, è Violetta tutto il film, tranne però la fine, quando viene a scoprire l'origine del suo nome e durante lo show, lo spettacolo, dove diventa effettivamente Tini. La serie va benissimo, ha avuto un sacco di successo, adesso è tutto finito, la parte appunto relativa a Violetta. Come mai, di chi era l'idea, eri tu che volevi smettere oppure c'erano state altre spinte? E perché questo, eras tu che querias terminare con Violetta o ha avuto altre pressioni? No. Dico, parlo dopo della serie tv. De la serie di television. No, ninguna pressione. No, 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 quisimos finalizzare di la miglior forma con questo personaggio, dopo di tantissime girare, dopo di tantissime cose vivere. No, volevamo semplicemente finire del modo migliore possibile, proprio concludere in bellezza, non c'è stata nessuna pressione. Ma quindi eri tu che hai deciso di chiudere, di finire adesso, magari potevate finire, non lo so, tra un anno, due anni. Però tu has querido terminar ora, hubiera sido possibile terminar dentro di uno o due anni, però tu has querido terminar con la serie di television. No, credo che non era possibile terminar ni dentro di uno o due anni, la serie llegó a su fin, in realtà nisiquera iba a haber seconda ni tercera temporada, solamente iba a haber una temporada e se terminaba regalando del éxito che tuvo. Però in realtà Violetta llegó a su fin, perché già non aveva molto più che raccontare. E a parte, perché, bueno, già avevano sido, non so, 4 o 5 anni di questo progetto, e non solo a me, a tutto il cast e alla gente di Disney, il momento perfetto per finalizzare con questo progetto. No, perché la serie è arrivata spontaneamente alla sua fine naturale, forse anche perché non c'era più molto da raccontare, dopo 4 o 5 anni di questo progetto, a tutti, anche a quella della Disney, è sembrato che fosse arrivato il momento di mettervi fine. Adesso è una carriera musicale, immagino che le canzoni che farai più o meno saranno del genere di quelle che abbiamo ascoltato anche nel film. Volevo capire, innanzitutto, tu che parte hai nella composizione? Scrivi la musica, le parole, entrambe le cose? E poi, qual è una cantante o un'autrice a cui ti ispiri, che ti piacerebbe diventare? Queria sapere qual è la tua funzione o la tua partecipazione in la tua musica, scrivi le lettere, scrivi la musica, scrivi la musica, qual è la tua partecipazione? E qual è una cantante o un cantante o una musica in cui ti ispiri? Non so se mi ispiri solamente in un cantante, mi encanta mirare e vedere molti documentali, e vedere molti shows in vivo, perché mi encanta vedere che è lo che facendo gli altri artisti, o sacar idee, o vedere differenti shows, eso mi encanta vedere. E poi, per il disco, per l'uomo, tuve total libertà per decidire che la canzone che voglio che sia dentro del disco. Tuve un montone di gente che mi aiuto, ho lavorato con compositori, che lavorarono con gente che io admiro il lavoro che facendo, come Beyoncé, Selena Gomez, Justin Bieber, Maroon 5, Justin Timberlake, con molti cantanti, e fu una privilegia di aver lavorato con queste persone, e tuve total libertà di elegire lo che io ho chiesto per il disco. E sto molto felice. Sì, mi piace, diciamo, non ispirarmi ad un unico cantante, mi piace guardare molti documentari, show, dal vivo, proprio per prendere un po' delle idee, vedere come fanno anche gli altri. Per quanto riguarda il mio disco, ho avuto grandissima libertà di poter scegliere le canzoni, anche il tempo, ho potuto lavorare con dei compositori fantastici, Selena Gomez, Beyoncé, ho avuto tantissimi altri, che ho avuto questa grande fortuna di lavorare con loro.